Finalmente siamo arrivati nella landa, comunque qui è stranamente caldo, ma aspettavo che la landa fosse spaventosa e piena di fantasmi, invece no, che sciocco, che sciocco, che sciocco, povero SEMO! Alla prossima! Oh, aiuto! Devo andare a terrorizzare i miei pronipoti! Oh! 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 Meglio che la storia! No aiuto! Che maleducato! No aiuto! No aiuto! No aiuto! Oh! Oh! No aiuto! No aiuto! Oh! 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 AFFIÓN OVADO AFFIÓN AFFIÓN O AYUта AFFIÓN AFFIÓN SI O AYUtu O AYUtu O AYUtu O AYUtu O AYUtu Oh, aiuto! Oh, aiuto! Grazie a tutti. 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 Scusate ragazzi, sono io... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.